entrano in campo ora le formazioni la nova 7 padrona di casa ospita il vicolo inizia ora invece con il vicolo in possesso valla che attaccherà dalla destra verso sinistra ancora proietti per andare verticale da micozzi ancora sbilanciato correttamente con il giusto tempismo poi super giocala di ballati va nel fondo chiude però quartiere del vicolo che salva il gol del 1 a 0 rimessa tra le 9 a 7 in zona offensiva ancora falasca va sul secondo pallo trova ballati ma spara fuori occasione incredibile qui per ballati ma quindi il gol del vantaggio 9 a 7 quello che sembrava fatto fra timperi dall'altro lato sempre ballati in pressione lotta con il numero 11 che passa però poi sfida potesco che chiude perfettamente con le mannone ancora timperi servito da proietti che la palla ancora proietti la può ricevere grande sui sui passi deviazione riesce bene potesco mette le vedi di luca che può ripartire scavento laterale buono per ballati che porta palla però saltarli tutti scivola la palla rimane lì chiude di giuseppe poi dire ancora ballati ancora di giuseppe buona prima l'uscita di potesco poi è stato buona l'uscita di giuseppe ora si vestiti salta troppa facilità ballati ancora si vestiti porta palla va col mancino palo interno pieno occasione piccolo e poi il disimpegno sbagliato da parte del vicolo ballati se la va a prendere scarica al destro sotto al 7 viene a festeggiare camera 1 a 0 9 a 7 grande proietti deve recuperare riprende velocità vada ballati grande ballati ancora forte in mezzo arrivere a doppio ancora a firma ballati 2 a 0 9 a 7 giuseppe questa volta sfortunato tiro ravvicinato sotto le gambe la vada deviata la valla rimasta lì era sfilata oltre la linea della porta trova la doppia gioia ballati in questi primi 20 circa di gioco ora dell'ora la tiene in campo vuoi partire si muove sfrattoni in verticale luca si ferma taglia il campo scarica ancora direzione ballati ancora gira su del luca un po di spazio pensato alla conclusione va ancora forte in mezzo ma la di realtà pinda la palla rimane lì e la chiude giuseppe ora sfrattoni trova ancora di giuseppe doppio intervento decisivo per lui silvestini proietti verticale buona per temperi può girarsi va in porta potente botesco copre alla perfezione primo ballo e mette in calcio d'angolo seguito proietti bella finta di uscire su del luca che non se l'aspettava quindi proietti taglia il campo ancora timperi va in porta e poi va il gol del 2 a 1 il vicolo azione in rapidità eseguita la perfezione arriva il gol del numero 11 del vicolo si va sul 2 a 1 partire timperi che allarga la rincorsa numero 11 potente trova super gol qui sotto la traversa si va così a riposo 2 a 2 inizia ora al secondo tempo grande che gira direzione ballati con il passo un po lungo trova solo l'esterno della rete va di valediano tocca al cento per timperi che si appoggia proietti ancora proietti al centro facile ora di valediano può sfidare botesco va super gol qui di valediano dimenticato alla difesa 9 a 7 passa in vantaggio il vicolo forte in mezzo servito del luca sull'altro lato sbaglia lo stop chiude di giuseppe del luca va da falasca parte il destro potente di giuseppe sulla sua destra errato che il mister si va a lamentare con i suoi errata da parte dei suoi giocatori tra falasca servito del luca tutto solo grande del luca tra l'imbucata profonda bene ballati che va con il tacco ma chiude di giuseppe di giuseppe lancio lunghissimo per raffaelli bello lo stop è la sfida botesco va sull'esterno raffaelli cos'è da fermarsi il grande interviene perfetto sulla sfera può ripartire ora il numero 2 verticale bella per falasca va sull'esterno falasca supera quasi di giuseppe che ci mette la mano poi arriva il tiro sull'esterno può partire grande ora il numero 2 esce di giuseppe viene battito però dal destro un missiziale di grande che riporta più poco sulla parità 3 a 3 diciottesimo nel secondo tempo di gioco non è trovato per il gol a 9 7 io ero bacio ma riprovare ancora ballati si muove di luca ballati si ferma sfida eh super abbondanza va col mancini crociato super gol ballati 4-3 ma quello che è sinistro all'angolino 1 sempre proietti ora silvestrini chiede l'inserimento a timperi che arriva ora taglia bene la posizione di loreto lo sbilancia si continua a giocare timperi scivola poi se la va a riguadagnare ora torna dietro da proietti si stacca silvestrini dice però la sfera è numero 4 può sfidare di loreto prova il piattone esce botesco la lascia lì rischia tanto qui la 9 a 7 questa è la 9 a 7 ha battuto ora da grande direzione di loreto con la fascia al braccio De Luca chiama il lancio grande perfetto per lui lo stop è buono forse un po' sotto poi esce Di Giuseppe nega il gol del doppio vantaggio 9 a 7 fino a giocare questa volta forse non c'era fallo Raffalasca prova la recupero ci riesce perfettamente era 3 contro 1-9 a 7 tutto solo De Luca se Vito Di Loreto può andare al centro Di Loreto ci pensa purtroppo forse se la porta sull'esterno chiude Di Giuseppe parte grande sfida di Giuseppe parte potente ma alto partire ora al numero 11 va Timperi forte mette a segno gol del 4 pari arriva ora firma ancora Timperi come state la 9 a 7 ancora Falasca la forte in mezzo Balati prova a recuperarla poi Proietti la tiene tra le gambe arriva il tipici fischio non paga cara qui la 9 a 7 dallo scadere del tempo arriva un pareggio 4-4 la 9 a 7 piccolo finisce così grazie a tutti